Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Kamer. Mai dare per concluso un campionato. In eccellenza, la sconfitta del Mapello sul campo del Leone, nell'anticipo giocato sabato, ha completamente riaperto la corsa al primo posto. E ieri la nuova Sardro Calcio ha fatto il suo, riportandosi in classifica a meno uno, grazie al 2-1 esterno in un rimonta contro la Soresinese. Boschetti e Martinez, gli autori dei gol. Sapevamo che sarebbe stata tosta, ma sapevo anche che il gruppo si sarebbe fatto trovare pronto. Ero convinto, quindi abbiamo fatto una partita maschia. La cosa che mi soddisfa di più sono i tre punti per quanto riguarda la prestazione. Secondo me dobbiamo e possiamo fare meglio. Mister Bolzan, giustamente, alza l'asticella, ma due pali, un salvataggio sulla linea e tante occasioni per i biancazzurri, prima dei gol di Boschetti e Martinez, legittimano il successo seppur sofferto. E che questo sia un campionato ricco di colpi di scena, lo testimonia anche i continui ribaltoni nelle primissime posizioni, segno che la storia del torneo è ancora tutta da scrivere. Domenica a Sondro arriva la Trevigliese, quinta in classifica. Altra sfida da non perdere, in tutti i sensi.